Oltre 40 opportunità di lavoro proposte dalle aziende a Pordenone ed intorni. A segnalarle è l'ente provincia sul suo sito web www.provincia.pordenone.it nella sezione offerte di lavoro. Diverse le figure ricercate, tra cui impiegati, operai, educatori, addetti al web marketing e molte altre ancora. La bacheca online, che nel 2011 ha registrato oltre 160.000 visite, si aggiorna di continuo con nuove inserzioni. Dietro a questo servizio c'è un intenso lavoro della provincia per individuare le aziende che assumono. Noi stiamo cercando di scovare, di scoprire quelle aziende che hanno delle performance in contotendenza, che in questo momento hanno volumi crescenti, non hanno difficoltà o ne hanno meno degli altri e hanno anche bisogno di assumere. Chi conduce questa indagine presso le aziende del territorio? La conduco io personalmente, insieme ad alcuni collaboratori, visito le aziende e illustro agli imprenditori, che voglio incontrare personalmente, le opportunità che noi mettiamo in campo. È fondamentale che ci sia il Presidente, perché tutti questi incentivi e queste opportunità di cui parliamo da tempo devono essere garantiti da chi le ha messe in campo. Io sulla scommessa delle politiche del lavoro ci voglio mettere la faccia direttamente.